Si sono appena conclusi i sorteggi di Champions Europa e Conference League, voglio parlare però delle italiane rimaste, in Champions sono usciti dei sorteggi abbastanza particolari, un po' come l'anno scorso una parte del tabellone è più o meno scarsa rispetto a quelle della seconda parte, ovviamente stiamo parlando di squadre comunque di altissimo livello come Atletico, Dortmund, PSG e Barcellona da un lato, ma dall'altro lato ci sono Arsenal che peraltro adesso dopo la diminuzione dell'Inter è stata data tra le favorite, Bayern Monaco, City e Real, quindi la differenza è abbastanza grande. Comunque le italiane lì non ci sono quindi non mi perderò a parlare di questo, passando all'Europa League sono stati sorteggiati per le italiane due scontri bruttissimi e sono Milan-Roma, quindi due italiane che giocheranno una contro l'altra e Liverpool-Atalanta, quindi la prima in casa la giocheranno Milan e Liverpool, Liverpool-Atalanta è difficilissima, Milan-Roma può uscire in tutti i modi, quindi io non so minimamente chi possa passare e sinceramente non riesco proprio a dare un giudizio, perché comunque è difficile da vedere una Roma in grande forma, un Milan che sulla carta è superiore, ma non sta in quella forma che vive la Roma, e poi invece c'è Liverpool-Atalanta che sulla carta vede il Liverpool favorito, ma io la voglio buttare, secondo me l'Atalanta alla fine può passare, è difficilissimo, forse impossibile, però secondo me può passare, non è più l'Atalanta che la batte in casa da Anfield, quando ce n'è ancora Ilicic, però secondo me può rifare una giocata di questo tipo, comunque non è una squadra da sottovalutare. E poi invece in Conference League la Fiorentina ha appena adesso, proprio due minuti fa, pescato il Vittoria-Plezen, che sicuramente non è tra le squadre più scarse tra quelle rimaste in Conference, però si è risparmiata per esempio la Stoneville e si è risparmiata altre squadre di ottimo livello. Secondo me la Fiorentina nel doppio confronto la può portare a casa, fatemi sapere voi che ne pensate, sono contento in un certo senso per il big match italiano, perché in Europa League, perché comunque è una bella partita da vedere, mi dispiace perché avrei sperato che uscissero, che ne so, Milan-Benfica e Roma-Marsiglia, che comunque si poteva ancora giocare, e l'Atalanta poteva affrontarle tutte, tranne il Liverpool, ha beccato proprio il Liverpool, non lo so, c'era anche il West Ham, che non è proprio il West Ham degli altri anni, anche se ha vinto 5-0 ieri col Friburgo, però vabbè, comunque una delle due italiane passerà sicuro, quindi non si rischia di vederle uscire tutte e due. Non lo so per l'Atalanta, io ci spero fino all'ultimo, voi che ne pensate? Grazie. Grazie.